I salmi e la recita coi salmi sussiste un metodo o più metodi per approcciarsi ad essi tramandati dalla tradizione o che dobbiamo apprendere all'interno di determinate fratellanze oppure è possibile avvicinarsi al potere raccolto all'interno dei salmi anche facendoci guidare dalla nostra sensibilità, dal nostro genio e dalla nostra volontà e questo è il piccolo grande punto interrogativo a cui cercheremo di rispondere con questo dialogo. Carissimi amici viandanti lungo le vie della conoscenza e dello spirito ben ritrovati su un fuoco sarro. Abbiamo visto nel corso di molti dialoghi di questi anni come i salmi rappresentino uno strumento un dispositivo operativo trasversale alle varie tradizioni religiose nonché iniziatiche nonché magiche. Ovviamente abbiamo avuto modo di comprendere che i salmi, il salterio è un libro a cui dobbiamo avvicinarci con cautela e con cognizione di causa sia perché ne sussistono varie versioni e queste varianze dipendano sia dalla sensibilità dei vari traduttori sia anche dai testi da cui i vari salterio che sono a nostra disposizione sono stati tradotti. Facciamo un esempio. Sappiamo tutti come massimamente il libro dei salmi possa essere composto da 150 o da 151 salmi anche se abbiamo con la piscitta 155 salmi. Tutto ciò è dovuto, quindi anche questa differenza di numero dei salmi dal fatto che in alcuni casi sono il libro dei salmi che ci ritroviamo in mano deriva dalla traduzione della Bibbia dei cosiddetti 70-72. Quando invece abbiamo un libro dei salmi composto da 150 in genere deriva dalla traduzione della Bibbia del testo misoretica del testo misoretico. Quindi già qui bisogna un attimino approcciarci con cautela. Quando vediamo in alcuni testi di magia il riferimento, qui si recita il salmo 90, bene, bisogna anche chiedersi a quale libro dei salmi questo testo si riferisce. Quindi già abbiamo una necessità, abbiamo la necessità di comprendere un po' di storia, un po' di sfarinatura di questo strumento. Poi dobbiamo sgombrare la testa da il ritenere che la tradizione magica, la tradizione operativa, la tradizione estrarreligiosa nell'utilizzo dei salmi sia dovuta a qualcuno in particolare, perché non è così. E chi porta avanti questa tesi è fondamentalmente, come dire, una persona da poco, che è o ignorante oppure che fondamentalmente è animata da malafede. Per esempio, in talune, sappiamo benissimo come in talune realtà martiniste, la ritualità giornaliera trova in fondamento sulla recita di tre salmi. E così è anche all'interno di strutture che sono di derivazione cremerziana. Ma sostenere che i tre salmi, che sono all'interno della strutturazione rituale di alcune filiazioni martiniste, dipenda dal fatto che queste sono state influenzate dal pensiero di Giuliano Cremers è un'emerita cavolata da maggiordomi, da inservienti dell'iniziazione, perché in realtà l'apparato rituale che deriva dall'utilizzo dei salmi è un qualcosa che è sempre stato presente. E ciò è dovuto da alcune inconfutabili verità. La prima è che già all'origine i salmi non nascono come canti, come preghiere all'interno del perimetro religioso giudaico, ma erano appannaggio del popolo, della tradizione popolare e da lì poi giussero all'interno del Tempio. Ancora non sono riconducibili nella loro intierezza alla tradizione ebraica e da quella si è poi spostata nella tradizione delle religioni di derivazione cristiana, perché comunque essi sono stati influenzati, e vi sono degli studi comparativi, dalle varie cattività che ha subito il popolo ebraico. Ancora troviamo per esempio i salmi all'interno della Piste di Sofia, che è un testo gnostico, all'interno delle varie raccolte di Nagmadi. Troviamo cinque salmi che non sono compresi nel testo canonico. Al contempo noi sappiamo che vi sono stati dei grandi personaggi, come l'abbate Giulio ad esempio, che ha fatto dei salmi che il proprio elemento strutturale, la base portante di tutte le sue operazioni terapeutiche, esorcistiche, di protezione, operazioni che lui faceva in nome e per conto delle pare comunità che a lui si rivolgevano, che attorno a lui si raccoglievano. Ancora noi troviamo, ben prima del martinismo, ben prima degli eletti coin e quindi molto prima della fratellanza, delle varie fratellanze di derivazione cremerziana, troviamo l'utilizzo dei salmi all'interno di quella che possiamo definire la sapienza popolare, all'interno di alcuni grimori di persone di potere che popolavano all'interno delle nostre campagne, delle nostre montagne a cui si rivolgevano le varie persone in cerca di conforto, in cerca di protezione contro il malocchio e altri rovesci della fortuna. Quindi vi è una trasversalità di questo strumento, vi è una varianza nel suo essere modulato, in quanto lo ritroviamo sia come recita singola del salmo XYZ, che so io il salmo 90-91 per allontanare le influenze malefiche, i demoni, i demoni notturni, il salmo 53 di protezione e quant'altro e le ritroviamo come singole recite oppure all'interno di strutturazioni rituali che seguano determinate finestre legate alle ore magiche giornaliere, oppure abbiamo delle realtà come i salmi planetari che impongano, che suggeriscono come ogni giorno della settimana debba essere recitato un salmo particolare, quindi una strutturazione poterosa di questo strumento. Lo ritroviamo all'interno di particolari ritualità, per esempio il rito dell'esorcismo maggiore, così come anche il rito dell'esorcismo minore, è composto massimamente dalla recita dei salmi, i salmi imprecatori, specialmente dove il sacerdote richiede l'intervento e l'ausilio divino delle forze divine per comandare al diavolo di uscire dal posseduto o di lasciare l'oggetto e l'abitazione che egli possiede. Lo ritroviamo poi, ad esempio, anche nelle operazioni, nelle quattro operazioni giornaliere degli eletti Cohen, dove per ognuno dei quarti, c'era dei quarti, cioè delle sei ore, esisteva, c'era la centralità di un salmo oltre a varie preghiere. Lo ritroviamo, per esempio, curiosamente anche durante la prima e la seconda guerra mondiale, quando le madri dei soldati russi, all'interno dei cappotti, delle pelandrane dei loro figli, andavano a cucire alcuni versetti di salmi che dovevano garantire la protezione di questi ragazzi mandati al macello durante questi conflitti. Quindi vediamo come vi sia un'enorme diffusione, una capillarità di utilizzo del salmo e quindi è sciocco dire X l'ha ricevuto da Y, Y l'ha preso da Z. No, è un patrimonio, quello della valenza magica dei salmi, dell'operatività coi salmi che è sempre esistita e sempre esisterà. Vi ho accennato come i contesti più famosi, più rinomati, dove abbiamo una operazione coi salmi al di fuori del perimetro religioso, sono massimamente gli eletti coin, l'ordine martinista, le fratellanze di derivazione cremerziana e l'udu, che è una tradizione magica, popolare, molto diffusa specialmente negli Stati Uniti d'America, ma che sta prendendo piede anche qua da noi. E ovviamente sempre eterno Abate Giulio. Ma la domanda qual è? la domanda che è stata posta da un membro della nostra comunità. Come dobbiamo recitare i salmi? Allora, va detto che fondamentalmente non esiste un metodo standard, valevole sempre e comunque, ma dipende dalla nostra volontà. Tradotto. Mettiamo che una persona ha un certo punto decida di approcciarsi, di utilizzare i salmi, il famoso salmo 90-91, perché si sente attenzionata da malefiche presenze, ritiene di essere soggetto di qualche maleficio o quant'altro, o ricevere, come ci veniva suggerito da alcuni racconti rabbinici, da incubi notturni. Bene, questa persona quindi avrà un rapporto di necessità, di accidentalità con il libro dei salmi e mi posso immaginare che tutte le sere e la abbia utilità nel recitare proprio per l'appunto il salmo 90-91. Quindi qui abbiamo un approccio sporatico, dettato quindi da una contingenza del momento. E a mio avviso, seppur comprendo questo tipo di rapporto, di approccio, è al contempo quello più sbagliato, quello più errato. Perché ci facciamo trovare, come dire, prendere in contropiede dalla necessità del momento e siamo completamente sprovvisti di quell'elemento rituale costante e quotidiano che ci permette non tanto la difesa, la cosiddetta difesa magica, ma la protezione magica. Cioè non siamo più reattivi, non siamo più passivi di fronte ad un'azione che ci colpisce, ma siamo proattivi rispetto ad essa. Perché comunque noi lavoriamo tutti i giorni con un determinato strumento. Ecco quindi già un diverso modo di approcciarsi con i salmi. Il primo è dettato dallo stato di necessità. Ok, ritengo di essere sottoposto sotto una determinata azione psicobolica, una determinata azione magica, di essere al centro di un rovescio della fortuna. Vado a cercarmi il salmo che ritengo essere maggiormente propizio secondo il libro dell'Abate Giulio, secondo quello che mi dice quel biscotto con la camicia strana di nome Filippo Goti, secondo quello che mi dice Lodo e quant'altro. Oppure invece io, a prescindere quello che mi sta capitando attorno, tutti i giorni pongo in essere una ritualità che possa avere inizio, che so io, con il salmo planetario del giorno, con una sequenza preordinata di salmi che vanno in qualche modo a modulare la vasta gamma delle sensibilità, delle qualità del salterio stesso. Quindi nel primo caso siamo in una condizione di passività o al massimo di reattività e nell'altra, nell'ultima, in quella più strutturata, siamo in una fase invece proattiva. Bene, queste sono già le prime due grandi questioni che ognuno di noi deve risolvere dentro di sé. Io ovviamente avete ben capito su quale delle due io mi approccio solitamente. Poi abbiamo invece tutta una serie di modulazioni nella recita dei salmi, però è necessario una considerazione preliminare, di cui in parte ne abbiamo già parlato. Non può essere l'approccio allo strumento salmi, come l'approccio ad un qualsiasi strumento, un qualcosa di sporadico, accidentale e dettato dal bisogno. Punto uno. Punto due, bisogna crederci. Cioè, se io non credo nel potere dello strumento, lo strumento con tutta probabilità non funzionerà. Perché questo? Perché specialmente questo tipo di, questo tipo di azione, che è un'azione che noi vivifichiamo attraverso il nostro corpo, perché ci sono anche alcune posizioni che la tradizione ci suggerisce, attraverso la nostra voce, attraverso la nostra enfasi, la nostra capacità di immedesimazione. Se noi non crediamo a tutto questo, se noi non siamo in grado di profondere tutto questo nel suono che anima il salmo, inevitabilmente tutto ciò non produrrà alcun effetto. Ok? Questo è un altro elemento importante. Infine, bisogna avere, come ho detto in precedenza, una seppolminima conoscenza storica, filosofica, simbolica dello strumento. Niente di trascendentale, eh? Non è che sia necessario essere dei teologi, però è comunque consigliabile sapere almeno che libro dei salmi teniamo in mano. Ok? Abbiamo la Vetus Itala, abbiamo la Vulgata Clementina, che cos'è il libro che il salterio che contiene il salmo che noi andiamo a recitare. Questo è quindi il secondo punto. Ok? Bene, veniamo adesso alle varie forme di recita. Mi metto gli occhiali così abbiamo in modo io di leggere qualcosa di preso dal mio libro sui salmi e commentarlo assieme a noi. Allora, la prima tecnica, la prima tecnica è chiamata la preghiera monologica. Essa trova origine nell'esicasmo e si connatura per la scelta di una singola parola o di un versetto isolato rappresentativo ed evocativo di un determinato salmo. Del salmo che noi riteniamo più confacente alla nostra necessità. Sarà quindi necessario andare a individuare nel libro dei salmi non solamente questo salmo apicale ma anche quella che è la parola o il singolo versetto che maggiormente lo rappresenta, che maggiormente infonde dentro di noi quella tranquillità, quella sicurezza ma anche quel desiderio di manifestata potenza. La preghiera monologica si divide in monologica semplice e in monologica sincronizzata. Allora, la monologica semplice si connatura per la recita di questa parola o di questo versetto per un numero indefinito di volte. Io in genere consiglio fino a quando il nostro stato di veglia, del nostro stato di coscienza critica, non inizi ad abbassarsi. Allora tutto si fonde e tutto si infonde. La preghiera monologica sincronizzata invece non solo richiede, come la precedente, la ripetizione per un numero indefinito di volte della parola o del versetto ma anche il fatto che questa sia sincrona con la respirazione e sia anche al contempo radicata su una parte del nostro corpo, che so io, la butto lì, il cuore. Quindi dobbiamo fondamentalmente avere la capacità di modulare, di controllare il nostro respiro e vedrete che modulando il nostro respiro modulerete anche e calmerete, che so io, il battito del cuore e vi fa sempre bene questo qui. Quindi si inspira e si recita, si trattiene e si recita, si espira e si recita, e si ritrattiene e si recita nuovamente, dando vita quindi a una circolazione, ad una quadratura di quello che è il nostro respiro, di quello che è la nostra recita, di quella che è poi la circolarità in cui il nostro pensiero creativo ovviamente si troverà a edificare continuamente. Qui è una parte molto importante di tutta l'attività magica, di tutta l'attività operativa. Non si recita solo e soltanto con la bocca, ma è necessario ricostruire l'apparato narrativo ed immaginifico, in questo caso del Salmo, all'interno di questo spazio in genere vuoto, un po' come il mio, compreso fra l'orecchio destro e l'orecchio sinistro, all'interno del locus mentale. In questo modo vivifichiamo la parola, la vivifichiamo con la respirazione consapevole, la vivifichiamo con la nostra disciplina mentale, ma anche e soprattutto con la nostra capacità di infondere le parole all'interno dell'immagine e di tradurre quindi le parole in immagine. In questo caso siamo dei plasmatori del mondo interiore. ancora abbiamo poi la recita del Salmo, del Salmo nella sua intierezza e vi leggo un passo da principi e norme della liturgia delle ore. Chi dunque vuole salmeggiare con spirito di intelligenza deve percorrere i salmi versetto per versetto e rimanere sempre pronto nel suo cuore alla risposta, perché il Salmo in quest'ottica è un dialogo personale col divino. Così vuole lo spirito che ha ispirato il salmista e che assisterà ogni uomo di sentimenti religiosi, aperto ad accogliere la sua grazia, la grazia dello spirito, che è la manifestazione dinamica dell'intelletto e della gloria divina. Per questo la salmodia, anche se eseguita con tutto quel rispetto che si deve alla maestà di Dio, deve prorompere dalla gioia del cuore e ispirarsi all'amore, come si addice ad una poesia sacra e a un canto divino, massimamente alla libertà dei figli di Dio. Che ci dice questo? Ci dice che non solo è necessaria nella articolata espressione del Salmo quella devozione, quella umiltà di fronte allo strumento che vuole schiaffeggiare il divino e dirgli, oh guarda io sono qua, io ti chiedo questo, violentare Dio con la preghiera, ma è necessario che questa preghiera, che questo canto, che questa orazione sia sentita all'interno del nostro cuore, del nostro vero intelletto spirituale. Ancora è necessario tenere una determinata posizione nella recita, in questo caso, del Salmo, perché vedete va da sé che nella monologica semplice o sincronizzata si consiglia una posizione che potrebbe essere la posizione del morto, oppure una posizione in ginocchio, raccolta e quant'altro, perché la dinamicità di questo tipo di orazione poi conduce inevitabilmente a degli stati di abbassamento della veglia e farebbe brutto per voi cadere mentre siete in piedi. Ecco, in quest'altro caso, invece, nella recita del Salmo, bene, qual è la posizione che debbe essere tenuta? Possiamo avere sicuramente una posizione del penitente, anche in questo caso, specialmente quando abbiamo anche una sequenza ampia di Salmi, oppure invece una posizione in piedi, dove però, con la gestualità del nostro corpo, accompagniamo il Salmo stesso. Che so io? Le mani potrebbero essere tese, oddio, non entrano qua, ad abbracciare un ipotetico fratello che viene verso di noi. All'interno, invece, di una dinamica impregatoria di respingimento, come tipo quando c'è non si è chimpi, non si è che se t'anquan pulvis, quen proget e quant'altro, invece le nostre mani respingano verso l'esterno. Ecco, quindi, anche una dinamica fisica nella parte, nella orazione col Salmo, tutto questo per vivificare sempre di più. Ovviamente, come vi ho fatto ben capire, non solo possiamo recitare il singolo Salmo, ma possiamo recitare una sequenza di Salmi. Qual è, per esempio, una sequenza famosa di Salmi? Bene, una sequenza famosa di Salmi sono i Salmi imprecatori. Cosa sono i Salmi imprecatori? Sono dei Salmi molto poco compresi dal sentimento religioso post-concilio Vaticano II, dove l'orante chiede l'intervento diretto divino o l'assistenza divina per punire coloro che lo hanno aggredito, coloro che hanno fatto del male a lui o al popolo divino, di Dio. Bene, ovviamente sono stati espugnati dal Concilio Vaticano II, che era molto peace and love, molto inclusivo, molto tutto vogliamoci bene, di cui poi abbiamo visto anche gli effetti postumi. Ma in realtà questi Salmi, secondo i miei studi, facevano parte proprio di quello che era il patto dell'alleanza e quindi erano delle forme di necessario intervento divino all'interno della tutela del rapporto che vi era fra lui e il popolo, fra lui e la celebrazione del rito. Ora tutto questo io lo invito anche a leggere in un'altra ottica, in un'ottica anche egregorica e quindi mutando su mutandi possiamo prendersi fatto contesto e inserirlo all'interno di un altro tipo di contesto legato sempre all'operatività con questi Salmi. Quindi diciamo che fondamentalmente possiamo avere, e c'è indicazione, possiamo avere delle linee di Salmi o dei versetti di Salmi che possono essere ripetuti per dare maggiore forza, maggiore prontezza alla nostra volontà. Ad esempio, possiamo, operando una logica di purificazione di corpo, mente e anima, procedere con la recita dei Salmi penitenziali, il 6, il 32, il 38, il 51 e quant'altro. Oppure, come vi dicevo prima, possiamo invece seguire la linea dei Salmi in precatori, di cui poi vi posso lasciare anche indicazione nella descrizione di questo libro e di questo video, oppure ancora andare noi stessi a creare quella composizione di Salmi a noi più confacente. Ovviamente tutto ciò, a mio avviso, acquisisce, come vi ho detto in precedenza, maggior valore in una ripetizione costante e giornaliera. Detto questo, e se queste sono le grandi direttrici tradizionali, nulla ci vieta fondamentalmente di costruire la nostra ritualità con i Salmi, dove fondamentalmente possiamo tranquillamente decidere noi su quale è il Salmo di apertura e quindi una sorta di Salmo che rappresenta il crinale fra una di spiegamento ordinario, quaternario della giornata e l'entrata invece di una dimensione sacrale e qual è la sequenza successiva di Salmi. Creare la nostra liturgia delle ore, creare la nostra liturgia dei Salmi, creare quindi un determinato dispositivo rituale su cui organizzare la nostra vita e su cui essere raccolti. Queste massimamente sono le disposizioni e i consigli che mi sento di darvi per quanto concerne l'uso dei Salmi. Carissimi amici, spero che questo dialogo che nasce da una vostra richiesta vi abbia interessato. Per domande, suggerimenti, consigli io sono qui, rispondo con i miei tempi, ma rispondo e vi do come al solito un consiglio. Sottoscrivete questo canale perché così avrete un aumento del 50% delle vostre possibilità di successo con i Salmi. A presto, ritrovarci!